Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati. Come ogni martedì a Sport 91 Live, l'analisi della giornata numero 30 di Serie A. Un piccolo attenzione naturalmente anche al solito focus sulle squadre campane in settimana. Nuova partita della Casertana. Come tutti i martedì sono in lieta compagnia. Accogliamo Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Franci, grazie mille per l'invito. Come tutti i martedì siamo il tandem preferito di tutti. Iniziamo come sempre con la lettura della giornata numero 30, la tre giorni di Serie A che si è conclusa nella serata di ieri con la sconfitta interna del Benevento al Vigorito contro il Sassuolo. Lanciamo dunque la nostra grafica sfida a salvezza, quella tra Spezia e Crotone rocambolesca, vinta dai Liguri per 3 a 2, vittoria importante per continuare a cullare il sogno Champions e matematicamente ancora quello scudetto del Milan a Parma. Vince a proposito di lotta salvezza il Torino a Udine. Poi nel lunch match di domenica Inter batte Cagliari 1 a 0. Nei match delle tre vincono sia la Lazio, sia la Juventus, sia il Napoli. Prosegue il sogno europeo anche della Roma che è una partita molto molto sofferta. Batte 1 a 0 il Bologna. Pirotecnico il 2 a 3 con cui l'Atalanta sbanca il Franchi di Firenze. Come si diceva in apertura la vittoria del Sassuolo al Vigorito di Benevento. Un rapido sguardo anche alla classifica. Rimane invariato la leadership dell'Inter più 11 punti con il Milan. E poi c'è la vittoria di tutte le prime otto della classifica. Dunque praticamente rimane invariato sia il sogno scudetto per i Nerazzurri, sia quello Champions League ed Europa League per le squadre in vertice. Mentre invece cambia leggermente la situazione al fondo della classifica perché Cagliari, Parma e Crotone perdono le rispettive sfide. Ma il Torino ottiene una vittoria molto molto importante e ha ancora da recuperare una partita sia pur sulla carta proibitiva come quella di Roma contro la Lazio annullata per il focolaio Covid che ha colpito i Granata ma sicuramente con la vittoria di Udine la squadra di Nicola fa un passo in avanti importante per la salvezza. Siamo arrivati al momento, il momento iniziale di Sport 91 Live, la partita della settimana di Alessia Bartirò. Spezia Crotone. Oggi ti voglio stupire anche perché come hai detto giustamente tu le prime otto hanno vinto quindi è vero sono state belle partite anche sofferte sicuramente ne parleremo dopo però non ci sono state tante sorprese però voglio essere anche un po' impopolare il Crotone non meritava di perdere. Ha disputato veramente una grande partita ormai la classifica delle ultime tre posizioni si è abbastanza delineata. Ovviamente tutto può ancora succedere ci sono ancora tanti punti in palio però il gap inizia a farsi più netto tra le ultime tre forze della classifica e le avversarie che le precedono. Mi dispiace perché appunto ho visto una partita che comunque mi ha divertito nonostante l'orario atipico soprattutto per il sabato però nonostante ciò questo gol del pari raggiunto poi dallo Spezia nel finale il gol vittoria praticamente allo scadere è stato veramente un risultato troppo severo per il Crotone quindi mi è dispiaciuto in particolar modo e mi è dispiaciuto anche per la Fiorentina che sinceramente meritava sicuramente qualcosa in più almeno un punto lo meritava contro l'Atalanta. Pienamente d'accordo sul discorso del Crotone è una squadra che lotta in maniera sempre molto estrema ma raccoglie davvero poco rispetto a quello che semina è una situazione particolarmente delicata quando manca sempre meno alla fine del campionato lo avevo preannunciato ospite della tua trasmissione con il direttore Gaudiano che salutiamo sempre con affetto che sarebbe stata una partita difficile per il Crotone sicuramente una sconfitta che complica non poco i piani della squadra di Serse Cosmi identicasi per Fiorentina-Atalanta avevamo previsto una partita scoppiettante è stata oggettivamente una partita scoppiettante siamo bravi a volte con i propostici non sempre però a volte sì qualche volta vanno anche a segno è stata una bella partita sicuramente tanto spettacolo tra due squadre che comunque hanno tanti giocatori secondo me a mio avviso di grande livello una partita che invece non è stata forse così dominata tra virgolette come potrebbe dire il punteggio è stata la partita della Juve che ha vinto ma è servito un gol quasi un errore difensivo della difesa del Genoa il 3-1 di McKennie ma il Genoa ha giocato davvero una gran partita sì anche in questo caso stesso discorso la Juventus è tornata ad essere in tante occasioni famelica cinica e spesso sfrutta anche le disattenzioni avversarie come è giusto che sia anche perché in questo momento del campionato dove i punti sono pesanti è veramente il gap che ha differenza delle ultime in classifica in zona Europa è veramente molto molto ridotto quindi è tutto ancora in corsa veramente ogni dettaglio può fare la differenza quindi è giusto approfittare anche delle debolezze altrui poi la Juventus può farlo tranquillamente con la rosa che ha a disposizione e in queste gare fatto sta facendo un piccolo passo indietro l'Atalanta si conferma ovviamente squadra informissima che sta a superare ogni ostacolo ma la Fiorentina comunque nettamente in crescita nelle ultime uscite nonostante il risultato l'avevamo anche previsto un po' una gara assolutamente scoppiettante ricca di gol una delle poche diciamo perché solitamente ci sono stati anche pochi gol indeterminate partite ci sono stati anche degli 1-0 e non ci sono stati pareggi poi in questa giornata abbastanza atipica per quanto riguarda la Juve non molla non ci sono state sorprese appunto tra le prime in questa trentesima giornata la Juve non molla è lì per un piazzamento d'Europa e sinceramente adesso a differenza di qualche settimana fa ma adesso faccio fatica a dirti chi potrebbe rimanere fuori delle big proprio per quanto riguarda la zona Champions è tutto come dicevi tu un grande groviglio di squadre la situazione contro i diretti che poi ce ne saranno tantissime nelle prossime settimane sicuramente già dalla dalla prossima giornata scontri come dire al vertice che ci sono per la zona Champions ed Europa League la lotta a Scudetto sembra come dire ormai conclusa il fascino della della Serie A a differenza magari di quanto avviene per la Liga riguarda la la qualificazione in Champions naturalmente da Milano sponda nerazzurra scongiuri del caso non si parla di Scudetto finché la matematica non dà la certezza però insomma nonostante la vittoria del Milan l'Inter non fallisce più un colpo si non fallisce più un colpo e lo fa anche in maniera diversa se prima era la squadra travolgente anche per quanto riguarda i numeri con tanti gol adesso sa gestire benissimo forze fisiche psicologiche che sono ancora più determinanti in questo momento del campionato l'abbiamo visto anche negli scorsi anni dove magari la Juventus all'inizio del giurione di ritorno ha recuperato tantissimi punti proprio con quella capacità mentale di focalizzarsi su ogni impegno mentre le altre ad esempio penso anche al Napoli in passato piuttosto che all'Atalanta che ha sempre fatto anche inizi di campionato importanti qua ad un certo punto mollavano la presa proprio psicologicamente magari sbagliando anche le gare contro le piccole invece l'Inter è una squadra è compatta è un Inter molto completa rispetto ad inizio stagione e che ha nel suo allenatore un leader carismatico lo vediamo anche durante il match soprattutto nei minuti finali dove sprone i suoi giocatori l'invoglia all'attenzione a dare veramente il massimo a guadagnare ogni rimessa laterale ogni fallo ed è quello che poi fa la differenza però sicuramente un 1-0 che è un po' allo specchio del momento dell'Inter e che poi ovviamente la fortuna aiuta gli audaci trova anche il gol nei momenti magari di leggera difficoltà quindi la strada poi si spiana sempre a suo favore sicuramente 11 risultati 11 vittorie anzi consecutive portano non solo l'Inter più vicino al sogno Scudetto ma anche l'allenatore Antonio Conte a togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa insomma in conferenza stampa mi ricordo quando avete criticato i giocatori avete ritenuto me un allenatore non all'altezza sicuramente l'obiettivo principale della stagione dell'Inter era ottenere lo Scudetto manca sempre meno prima che la matematica già il prossimo 25 aprile potrebbe essere come dire il giorno dell'ufficialità dell'interruzione del dominio della Juve Juve che in questo momento ritorno un attimo qui per parlare un po' di singoli di giocatori che ti piacciono per una situazione un po' delicata un Cristiano Ronaldo un po' atteggiamento particolare ha sbagliato un gol praticamente fatto sul gol di Morata ha gettato via la maglia e allo stesso tempo insomma si parla in Spagna di un desiderio da parte del portoghese di tornare a Madrid ma insomma sponda da Chamartin non sono proprio convintissimi e dall'altro lato invece una disattenzione di Ibrahimovic pizzicato in un ristorante stellato di Milano insomma la Lombardia ha anche detto bisogna toglierlo un attimo come testimone contro la lotta del covid insomma due campioni che uno in campo forse e l'altro fuori hanno commesso davvero una leggerezza eh sì due leggerezze molto molto gravi inizierei subito da Cristiano Ronaldo una situazione delicata già l'abbiamo analizzato anche nelle scorse settimane credo che il percorso in bianco nero di Cristiano sia ormai terminato si sia esaurito non nel migliore dei modi poi anche perché lo abbiamo sempre ripetuto tra gli obiettivi massimi da raggiungere non c'erano solo gli scudetti ma soprattutto la Champions obiettivo assolutamente fallito quest'anno non parliamo ovviamente di piazzamento ma come percorso proprio nella blasonata competizione internazionale quindi credo che al momento Cristiano non possa dare più nulla a questa Juventus che poi ha bisogno comunque di un rinnovamento almeno di un progetto più stabile ripartire non credo compirlo magari dando più certezze con un progetto che sia magari anche giovane e diverso rispetto agli scorsi anni ma che sia comunque incentrato su obiettivi ben precisi anche perché la concorrenza adesso c'è c'è l'Inter ma non solo c'è il Milan che comunque sta programmando delle stagioni importanti la stessa Atalanta le stesse Romane che comunque da vari anni sono sempre lì lotta per l'Europa c'è lo stesso Napoli che comunque cambierà anche allenatore ma dei progetti importanti per dar fastidio comunque alle squadre nelle prime posizioni classifica quindi questa Juve assolutamente deve decidere nuovamente cosa fare da grande poiché non può rimanere sulla scia di quanto fatto quanto di straordinario fatto negli ultimi dieci anni quindi credo che sia una parentesi da chiudere quella con Cristiano Ronaldo e forse avverte anche lui queste potenzialità inespresse questo non essere riuscito a dare il massimo in questa stagione poi molto molto particolare di per sé per quanto riguarda invece Ibra è una situazione ancora più delicata perché lo abbiamo detto anche la settimana scorsa parlando del comportamento questa volta sponda Juventus dei vari calciatori imbischiati in questa festa fantomatica possiamo dire poiché è rimasto comunque un grande allone di mistero i calciatori ovviamente sono sempre attenzionati quindi tutto ciò che fanno è ancora più sotto una cassa di risonanza esagerata nonostante ciò bisogna rispettare assolutamente le regole proprio perché si è da esempio per una serie di persone che possono essere più giovani e meno giovani e prendono come riferimento ciò che vedono da quei campioni quindi assolutamente un pranzo in piena zona rossa in piena emergenza covid è assolutamente da evitare mi hanno detto che si trattava in realtà di un incontro di lavoro fatto in quella location comunque è tutto vietato ovviamente è diciamo uno stratagemma per far sembrare la cosa meno grave perché un incontro di lavoro in una location segreta magari può essere un po' più un po' meno fraintendibile rispetto a un pranzo di piacere con degli amici ma assolutamente bisogna rispettare le regole perché il rischio per la salute propria delle persone che si hanno intorno c'è per tutti che sia un campione che sia un ragazzo che sia un anziano e quindi sono proprio loro a doverle seguire sono d'accordissimo sul discorso poi che ovviamente crolla anche tutto il suo ruolo come testimonial proprio nella lotta al coronavirus perché se il primo a non seguire le indicazioni e le restrizioni covid non ha senso poi che sia in tv a indicare ai più giovani di indossare le mascherine perché forse è il primo che non ci crede tra l'altro su questo è stata avanzata questa mattina appunto una nota da parte di un politico milanese che si è rivolto direttamente all'assessore Moratti chiedendo che appunto ci fosse una comunicazione con chi di dovere per prendere dovuti provvedimenti alla situazione di Ibrahimovic insomma un autogol sicuramente clamoroso da un punto di vista umano del fuoriclasse svedese Ale prima di fermarci le hai citate prima e dunque vado di domanda secca perché appunto ne abbiamo leggermente trattato se a tuo avviso una delle due romane può arrivare in Champions League guarda io ti ripeto al momento faccio difficoltà a decidere chi escludere quindi ti metto ancora più in difficoltà sì mi metti ancora più in difficoltà perché ho sempre creduto nel potenziale della Roma ma con grande discontinuità rispetto alla Lazio che ha trovato più serenità la vedo anche un po' più serena anche in campo che ha trovato poi il gol anche nel finale quindi particolarmente allegra però sono due avversarie fortemente temibili con grandi individualità quindi perché no al momento inserisco anche loro nella lotta alla Champions tra l'altro la Roma potrebbe ottenere la qualificazione con una vittoria in Europa League giovedì attesa dal ritorno contro l'Ajax all'andata la Johan Cruyff Arena grande vittoria degli uomini di Fonseca che hanno battuto 2 a 1 la compagine di Tenag giovedì atteso il ritorno qualora si dovessero qualificare non dovessero esserci degli scombussolamenti troppo grandi naturalmente a Manchester grande doppia sfida in semifinale tra Roma e Manchester United prima di proseguire con la nostra consueta analisi ci fermiamo un attimo piccolo break pubblicitario torneremo subito da voi una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania un occhio attento su tutto ciò che avviene in città benvenuti su Notas quotidiano online di informazione nazionale e regionale focus sulla cronaca politica attualità cultura spettacoli e sport H24 ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook Instagram e Youtube tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it azienda leader nel settore delle costruzioni edifici industriali ed energie rinnovabili la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare anche nei rami delle costruzioni delle energie rinnovabili con rispetto e amore per l'ambiente e ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord con marchi importanti tali da accrescere così l'appel del nostro territorio Gruppo Marican via consortile SNC 81030 zona Asi Teverola Aversa Nord Caserta Eccoci rientrati in studio qui a Sport91 Live in compagnia di Alessia Bartiromo come tutti i martedì dagli studi di Teleprima Canale 91 dopo un'analisi generale la panoramica della giornata numero 30 dopo la pubblicità come di consueto si parte con il focus delle squadre campane e si apre il tutto con il Napoli bella vittoria a mio avviso adesso mi dirai la tua insomma una partita non facile contro un avversario arcinio come la Sampdoria di Claudio Ranieri che ha sofferto anche in più di un'occasione ben oltre i due gol del Napoli che comunque continua quasi a pieno regime insomma con i giocatori che rientrano e magari riescono a seguire meglio i dettami tattici di Gattuso il sogno Champions League è sempre lì sì il sogno è sempre lì complimenti in primis alla Sampdoria Ranieri che comunque mi è piaciuta tanto anche come carattere identitario del suo allenatore mi sono piaciute le parole di Ranieri nel post partita quindi continua ad essere una bella realtà si è parlato un po' anche del futuro dello stesso Ranieri e si è accostato visto che poi l'avevamo detto la scorsa settimana la prima serie A è stato accostato anche lui alla panchina del Napoli forse era uno dei pochi nomi che mancava nella lista scherzi a parte è stata una partita comunque difficile per il Napoli molto tesa anche a livello di nervi a livello psicologico permettimi di dire che non mi è piaciuto particolarmente il siparietto tra Quagliarella e Gattuso perché per quanto sia vero che il tecnico del Napoli veramente è un costante fiume in piena a bordo campo però il calcio è anche quello succedeva prima solo che con i tifosi naturalmente non c'era la possibilità si sentiva di meno però io credo che l'atteggiamento giusto a bordo campo così in campo sia di dare il massimo comunque farsi sentire ed essere un leader ed essere di carattere non piacciono gli atteggiamenti troppo morbidi molto spesso anche i tifosi dicono che avvertono i calciatori troppo rilassati quindi non mi aspettavo il commento del genere da parte di Quagliarella più da Ciuchilo Sano che appena è entrato è stato poi subito puntato con le solite urla da Gattuso esatto giusto questa parentesi però vittoria importantissima da parte del Napoli si è rivista la formazione che in tanti avevano richiesto anche nelle ultime partite nel recupero contro la Juventus quindi con Politano e Osimè Ben titolare Osimè continua a piacermi tanto si vede con questa grande falcata anche una bella una bella marcatura sta crescendo tanto anche dal punto di vista psicologico con il Napoli è più rilassato è più sereno si è scrollato un po' di dosso le pressioni degli ultimi periodi ancora subisce qualche critica di troppo però assolutamente il cammino del Napoli è quello giusto ora è chiamato a due gare molto molto difficili che diranno tanto sul futuro sia del campionato ma anche sul futuro del Napoli stesso due gare tra l'altro contro due squadre per la Napoli-Inter con cui il Napoli ha perso all'andata tra l'altro senza segnare nessun gol con l'Inter perse 1-0 contro la Lazio invece 2-0 con le reti di Immobile e Luiz Alberto però il Napoli che si riprende il Napoli che comunque riesce anche a dare qualche dettame di gioco in più penso sicuramente il gol di Fabio Arruizio è un po' l'emblema insomma una giocata tutt'altro che casuale sì bellissima rapida di prima un po' il Napoli che piacerebbe vedere anche ai tifosi non solo quello della costruzione dal basso che ha creato ultimamente anche parecchi problemi per quanto riguarda anche gli equivoci tattici dei quali abbiamo parlato anche non solo a Prima Serie A ma anche nelle scorse puntate di Sport91 Live un Napoli sicuramente più organizzato ma che sta trovando la giusta quadra abbiamo visto anche un grande demme proprio come smistatore a tutto campo possiamo dire perché veramente lo vedevamo in attacco e in difesa veramente uomo in più di Gattuso e lo stesso Fabian anche lui particolarmente criticato da tanti tifosi ma anche addetti ai lavori che quando è nella giornata positiva nel ruolo comunque a lui congeniale contro una squadra che ti fa giocare perché anche quello fa la differenza riesce ad esprimersi a meglio ed essere anche poi cinico e a fare la differenza sinceramente in questo momento un giocatore che comunque sta ritrovando un giocatore che io personalmente ho sempre da un punto di vista anche obiettivo difficoltà a criticare però è un giocatore che deve pensare di dare più al Napoli perché comunque è un giocatore che ha un talento sconfinato ma l'idea che possa giocare solo da mezzala insomma serve a poco c'è bisogno anche di una maggiore d'utilità tattica da parte sua intanto però nonostante tutto il Napoli è lì sta quasi per raggiungere la zona Champions ma il futuro della società il futuro di Gattuso soprattutto sembra lo stesso segnato sì sembra lo stesso segnato perché c'è questa mancanza di fiducia segnata già nei mesi scorsi che sembra non essersi risolta continua inoltre il silenzio stampa con soltanto alcuni tweet del presidente De Laurentiis che emergono ogni tanto a complimentarsi con la squadra dopo le vittorie o a smentire profili social detesterati però niente di più ovviamente si vuole aspettare evidentemente il finale di stagione di campionato per poter parlare e spiegare la situazione e non continuare con le polemiche piuttosto che con le varie situazioni di aver ascoltato o visto altri allenatori ti ripeto io credo che il rapporto tra De Laurentiis Gattuso sia segnato da tempo e credo che ci sia una frattura troppo netta per essere risanata ed è giusto che entrambi possano voltare pagina per riprendere con un nuovo progetto tattico altrove per quanto riguarda il Napoli cercare di capire ugualmente come dicevamo prima per la Juve con questo nuovo progetto cercare di capire cosa dovrà fare da grande se puntare ancora per un altro anno ad un piazzamento Champions dare comunque fastidio alle primissime in classifica puntare a conquistare eventualmente in caso di qualificazione in Europa League ad arrivare più avanti possibile in questa competizione c'è da capire un attimo la situazione della società che ormai è una società grande cioè ha calciatori importanti fa investimenti importanti quindi è anche un peccato essere lì ogni anno e ripetere la solita fila strocca sì il nostro obiettivo è un piazzamento Champions anche quello è difficilissimo però farebbe piacere comunque anche ai tifosi ascoltare qualcosa di diverso è un progetto diverso che possa partire comunque dai prospetti dai giovani dai talenti e da un allenatore che possa far giocare bene nuovamente la squadra anche perché comunque negli ultimi anni il Napoli ha cambiato tanti allenatori non sono non ci sono stati più allenatori diciamo longevi come magari è stato Mazzarri è stato Benitez Sarri certamente però poi c'è stata la parentesi Ancelotti molto breve la parentesi Gattuso che come dicevi anche giustamente tu è quasi vicina alla conclusione e quindi a quel punto il progetto qual è? prendere un allenatore giovane emergente possiamo dire all'apirlo con tutti i pro e contro che può avere e pensare di ricostruire una squadra vincente oppure prendere un altro allenatore per riuscire a vincere tutto però secondo me un discorso di progettualità con un allenatore che sta poco più di un anno e mezzo a mio avviso non so tu ma non credo si possa fare sì assolutamente d'accordo ma dipenderà tutto proprio dagli obiettivi del Napoli perché ovviamente nel momento in cui si voglia alzare la famosa asticella e dire sì diamo vita a un mercato diverso rispetto a quello degli ultimi dieci anni compriamo un campione anche magari a parametro zero ma con l'ingaggio da 6 milioni di euro non vado neanche a cifre troppo alte mi tengo quelle già alte rispetto al massimale degli azzurri superando persino capitali in signe quindi in quel momento tu puoi puntare puoi provare a fare la famosa telefonata da Allegri e di mister noi abbiamo un progetto a vincere ti do carta bianca con questo budget per questo mercato proviamo non dico al primo anno ovviamente vincere lo scudetto ma dare fastidio a Inter, Milan e Juve però io credo che nei piani del Napoli ci sia sempre confermarsi tra le prime quattro in classifica e ripeto comunque non è cosa scontata quest'anno così come il prossimo e dare vita comunque a un mercato con i soldi che arriveranno da alcune cessioni importanti che sembrano ormai certe e da numerosi giocatori attenzionati in giro per l'Italia e per il mondo che possano essere dei talenti e dei prospetti magari beccando qualcosa anche in Serie A non credo ci sia questa grande rivoluzione quindi per rispondere alla tua giusta osservazione credo si punti ad un allenatore che conosca bene la Serie A che abbia un'idea molto forte e precisa di identità e di gioco e soprattutto di un bel gioco che è quello che è un po' mancato al Napoli perché poi tramite il bel gioco come abbiamo visto anche con Sarri in passato si può alzare comunque questa sticella che viene colmato un po' dall'assenza poi dei leader e dei campioni non so se il tuo pensiero quando hai detto tutte queste qualità di questo allenatore ti hanno riportato alla mente Roberto De Zerbi a me lo hanno fatto e ne approfitto per introdurre il tema Benevento perché comunque il Sassuolo anche qui ogni anno riesce sempre a stare praticamente in maniera costante dalla parte sinistra della classifica un'altra vittoria che certifica una salvezza tranquillamente raggiunta e un'Europa che è più complessa però anche lì insomma il Sassuolo ha avuto qualche defezione in questa stagione l'aspetto tra virgolette positivo secondo me nella sconfitta della squadra di Inzaghi è stata comunque una reazione che il Benevento ha provato a mettere in campo e la sconfitta delle ultime tre che come dire in qualche modo tra virgolette pareggiano anche la sconfitta dei Sanniti Stavo pensando proprio a questa cosa infatti che il Benevento è stato sicuramente aiutato ed è sicuramente aiutato dalla classifica e da prestazioni poco positive delle ultime tre in classifica nelle quali c'è abbastanza già un gap importante un piccolo baratro soprattutto dall'ultima vediamo già un gap di cinque punti che comunque è tanto da colmare perché altrimenti anche il Benevento sarebbe in zona un po' più rossa quindi la situazione sarebbe sicuramente un po' più complicata il problema sono sempre i risultati per quanto riguarda i Sanniti perché come hai detto tu ma l'abbiamo registrato anche nelle scorse settimane la reazione di carattere la reazione di vemenza l'idea di gioco c'è sempre nel Benevento ovviamente sono ancora tante le defezioni da ambo le parti però il Sassuolo al momento gioca più leggero è più spensierato ha un'organizzazione di gioco assolutamente più compatta e ritornando al discorso iniziale credo che De Zerbi sia pronto per allenare comunque una grande assolutamente ha tutto il tempo dalla sua e credo che non si bruci come spesso si dice in gergo ma che sia assolutamente pronto per un'avventura ancora più stimolante sì sì questo l'ha detto anche lui tra l'altro ne ha parlato in una diretta Twitch ha detto un allenatore comunque come me come tutti gli allenatori devono essere pronti alla chiamata è una big più o meno è successo lo stesso anche con Sarri che allenava l'Empoli lo chiamò il Napoli e lì sicuramente è stata data una svolta importante alla sua personalissima carriera salvezza del Benevento che però non è ancora raggiunta il prossimo impegno di campionato dei Saniti è tutt'altro che facile all'Olimpico contro la Lazio e dunque chiedo gentilmente alla regia di lanciare la grafica della giornata 31 che si apre sabato 17 con Sampdoria Verona e insieme a Crotone Udinese Sassuolo Fiorentina Cagliari Parma domenica invece il lunch match è Milan Genoa poi c'è Atalanta Juventus Bologna Spezia Lazio Benevento alle 18 al pari di Torino Roma e infine il posticipo di domenica 18 tra Napoli e Inter Ale ti tolgo Napoli Inter e Atalanta Juventus perché è troppo facile dunque quale partita ti può interessare guarda stavo pensando proprio sul Benevento che anche in questo caso per il prossimo turno è abbastanza non dico facilitato non nel risultato ma nel senso di eventuale sconfitta perché non solo c'è lo scontro diretto tra ho perso la partita che non leggo però c'è tra Cagliari e Parma ecco ben sì c'è Torino-Roma quindi assolutamente in caso ovviamente di risultato negativo la classifica potrebbe comunque variare poco per il Benevento quindi anche in questo caso potrebbe non essere rischiato ma comunque restare tutto abbastanza stabile invariato leggendo ovviamente perché la vecchiaia non mi aiuta in questo ovviamente allora Sampdoria Verona secondo me è una bella partita devo dire la verità perché ho visto la Samp particolarmente in forma nonostante la sconfitta però sì motivata soprattutto a giocare bene spensierata con i suoi dettami tattici quindi credo che non molli la presa in questo momento del campionato ma appunto a divertirsi magari scrollandosi di dorso anche un po' di situazioni pendenti dalle scorse settimane poi vabbè c'è questa Lazio-Benevento che assolutamente ci affascina perché il Benevento sa essere comunque sempre una variabile impazzita contro le big anche se credo che ci sia poco da fare 1x diciamo così oggi mi voglio proprio dare ai pronostici Cagliari-Parma ne abbiamo già parlato Sassuolo-Fiorentina e beh Sassuolo-Fiorentina anche qui sulla carta ci potrebbe dire qualcosa di interessante mi sbilancio anche perché l'ho detto ho visto la Fiorentina bene avida di riscatto avida di vittorie quindi bel 2 lo potrei consigliare agli amici da casa il Milan deve confermarsi deve confermarsi non deve mollare la presa complici anche ovviamente le prossime gare della capolista anche se sinceramente la vedo troppo famelica sì la vedo troppo famelica secondo me vuole archivare quanto prima la pratica quindi non credo ci saranno clamorosi passi falsi al massimo qualche pareggio visto che comunque ha un gap abbastanza sostanzioso e per quanto riguarda le altre gare Bologna Spezia Sassuolo-Fiorentina ne abbiamo parlato Atalanta-Juve bella anche lì grande partita niente da dire e c'è anche direi lo possiamo fare un piccolo flash su Napoli-Inter tu parli di un'Inter famelica 11 vittorie consecutive si può interrompere questa striscia anche con un pareggio comunque si interromperebbe in questo caso sì in realtà mi riferivo proprio alla gara del Maratona nel senso che sicuramente il Napoli non vuole staccarsi dal treno delle Big sicuramente il Napoli ha perso punti importanti contro la Juve l'abbiamo detto una gara importante ma non decisiva però con le prossime due gare contro Inter e Lazio sicuramente il Napoli dovrà fare punti non si può permettere in questo momento due sconfitte con la Lazio assolutamente se la può giocare penso sia assolutamente all'altezza anche di conquistare l'intera posta in palio anche perché saranno due gare casalinga anche se ovviamente l'effetto campo pubblico non c'è però giocare al Maratona ovviamente dà sempre un certo orgoglio però per quanto riguarda la gara contro l'Inter sarà una bella sfida una sfida aperta anche se te lo ripeto l'Inter ora è la classica squadra 1-0 compatta non ti fa giocare ti blocca le fonti di gioco cosa che spesso mette il Napoli in grande crisi e in grande difficoltà però proprio per questo gli azzuri potrebbero giocare un po' più sciolti un po' più rilassati e ne potrebbe uscire una bella gara dai dico X mi è convinto di questo naturalmente ne parlerai con i tuoi ospiti a Prima Serie A noi prima di salutarci facciamo una piccola attenzione come sempre anche alla Casertana perché insomma il momento dei falchetti è un po' delicato è arrivata la sconfitta interna al Pinto contro il Palermo e poi ieri in una partita come dire un po' particolare possiamo dire al Rocchi di Viterbo una sconfitta 5-2 e un punto su cui insomma mi piacerebbe focalizzarmi che non era mai successo né da guidi né da parte di un tesserato nel caso di ieri di Carillo ho detto la Casertana non cerca alibi però insomma qualche scelta arbitrale ieri insomma non è affatto piaciuta la compagine rosso-blu eh sì riflettori puntati non solo sull'espulsione ad inizio ripresa che ha compromesso poi da lì tutta la partita sì di Del Grosso perché la gara era stata abbastanza è vero con vari colpi di scena però era stata abbastanza equilibrata la Casertana poteva strappare tranquillamente anche un pareggio persino una vittoria con i vari episodi di Viterbo poi ovviamente ha giocato in dieci dall'inizio della ripresa e quindi da lì poi la Viterbese ha dilagato tra l'altro Ale scusa mi ha detto il mister giustamente il gol del 3 a 2 ha completamente tagliato le gambe sì da lì non c'è stata più partita e all'inizio comunque la Casertana è stata brava a rispondere subito al vantaggio della Viterbese a freddo con la risposta di Pacilli quindi in questo c'è stata poi subito la reazione di Falchetti ma c'è sempre questo assolutamente anche perché avendo acquisito già la salvezza essendo comunque agganciata in zona playoff vuole continuare a dire la sua non vuole incassare sconfitte però complici disponibili complici i giocatori che in questo momento stanno giocando poche non sono informissima e anche qualche errore di troppo dei singoli perché si è visto proprio c'è stato un blackout continuo in difesa da parte dei Falchetti purtroppo i risultati non stanno arrivando c'è tempo però per riscattarsi subito c'è il recupero giovedì contro il Monopoli c'è il derby domenica con la Juve Stabia quindi è una settimana bella calda dove la Casertana vuole dire assolutamente la propria nonostante siano due gare soprattutto quella di domenica molto molto complicate sono gare difficili però insomma anche dall'alto della tua esperienza quale partita potrebbe contare di più perché comunque l'abbiamo già detto da qualche settimana per tutti gli amici di Caserta la Casertana ha già raggiunto la salvezza ed era tutt'altro che scontato e lo ripetiamo perché a mio avviso è giusto ribadirlo con quanto è avvenuto a dicembre con i risultati che non arrivavano e un vero e proprio focolaio covid-19 che ha colpito la squadra del presidente D'Agostino adesso insomma arrivate due sconfitte contro squadre praticamente appaiate in classifica come Palermo e Viterbese ci sono due partite che insomma possono dire molto sulla stagione dei falchetti sì partirei subito da quella di giovedì contro il Monopoli ovviamente che sicuramente la gara che per classifica è la più importante ma il derby è sempre il derby quindi le motivazioni sono tantissime anche se la Juve Stabia assolutamente accaccia dell'intera posta in palio quindi quella di domenica sarà la gara un po' più difficile poi arriverà dopo due gare giocate in pochi giorni quindi magari un po' di stanchezza in più ci potrà essere anche psicologicamente però io credo che la Casertana in questo momento debba veramente scrollarsi di dosso tutte le paure tutti i timori perché ha tutte le carte in regola per continuare il suo percorso per arrivare tra le prime dieci perché è lì praticamente appaiata comunque nella decima posizione quindi assolutamente i playoff sarebbero il giusto coronamento di una bella scalata nella classifica e di un qualcosa che all'inizio della stagione si pensava potesse essere quasi inarrivabile a pensare a Natale con l'emergenza Covid la gara proprio di andata contro la Viterbese disputate nove uomini quindi potrebbe essere veramente una bella soddisfazione a un piccolo tassello per ricominciare poi il prossimo anno e dare vita a una nuova programmazione che prevede poi il nuovo stadio della Casertana e tante belle cose e potrebbe proiettare poi Falchetti veramente nell'Olimpo delle squadre campane progetti importanti non solo come diceva giustamente Alessia da un punto di vista strutturale ma anche naturalmente per quel che riguarda il calcio più giocato anche il campo con la conferma ormai nota di Mister Guidi sulla panchina dei Rosso Blu Ale noi siamo in chiusura io come sempre ti ringrazio per i tuoi contributi e do appuntamento a tutti gli amici di Teleprima venerdì alle ore 21 e 30 con Prima Serie A con il direttore Gaudiano e i vostri ospiti l'appuntamento invece come sempre a Prima Serie A di venerdì l'ho già detto a Sport 91 Live invece è martedì prossimo alle ore 21 e 30 grazie come sempre a voi da casa per averci seguito e buon proseguo di serata a tutti e buon proseguo di essere